Vincenzo Di Gregorio, detto Enzo, è candidato al Consiglio regionale pugliese col Partito Democratico. Partito Democratico ovviamente che sostiene il candidato presidente della coalizione, il governatore uscente Michele Emiliano. Di Gregorio, perché riconfermare Emiliano? Perché è un uomo di grande esperienza, in questi cinque anni difficili ha lavorato bene, è stato umile nella gestione del Covid, affidandosi agli esperti, ai tecnici e devo dire che anche se qualcuno ancora ad oggi ci sottolinea un lavoro leggermente sbagliato su alcuni settori sono certo che il presidente si farà carico di questo e migliorerà in avvenire per esempio sulla sanità, sull'ambiente e sulla questione annosa dell'aeroporto di Taranto. Grazie.